Sono tornato qui a caccia di rarità e di affari pokémon, nel mercatino dell'usato dove abbiamo fatto i migliori affari pokémon Ed ecco qui la prima bancarella di questo fantastico mercatino, alla fine vi diciamo dove ci troviamo Innanzitutto andiamo qui all'inizio, abbiamo già i tre starter, questo 151 della box, quella lì piccolina da 20 euro che adesso sta tipo a 70 Follia ragazzi, poi seconda pagina, già questo Lugia molto molto bello, possiamo provare a chiedere anche questo quanto costa Lo Squakabilly mi ha sempre fatto ridere raga, è una carta che costa pochissimo ma fa un botto ridere, stra divertente Poi carta giocata nel competitivo ma ce ne ho tantissime, poi vabbò i ex normali, queste raga sapete che è difficile che ci interessiamo Bellino anche la Kazam qua, 151, comunque già prima pagine posso dire abbastanza fornito Quindi continuiamo, questa è l'intriga eh Qui roba del 25esimo tra questo McDonald qua in alto, bello anche il Dark Gheridos qui Però cazzo, che è sempre il 25esimo eh, segnalo Questa anche, bella carta, bella carta Adesso iniziamo a chiedere anche poi i prezzi, però prima raga godiamoci, gustiamoci questi Detective Pikachu finito Bellissimo set atomico, siamo riusciti a finirlo qui al mercatino E se non avete visto il video dove lo finiamo Vi ricordo di andarlo a vedere che è stato pazzesco raga, bellissimo video Pari a CHR anche questo Mew se fosse gradabile sarebbe molto interessante da poter chiedere il prezzi Comunque stiamo integrando Dragonite stupendo Mamma mia ragazzi che artwork, pazzesco il Raz, molto bellino, molto, molto, molto Andiamo avanti, qui abbiamo, vabbè, Umbreon, i Viros E diamo un'occhiata, controlliamo, andiamo avanti Guardi War X, Delta Special anche questa bella Molto, molto bella, molto, molto Poi questa raga, questa sicuro la dobbiamo prendere Perché nel video di Gambetto l'abbiamo preso il Charmander Quindi ci manca il Charmander, il Charizard ce l'ho e siamo a posto Ah raga, così, niermente, il vecchio nostro bigliettino Ok, quindi è una fan mi sa E vediamo qui abbiamo dei vari Charizard Bellissimo anche questo qui del Breaksen Questa è la promo, sì, infatti è promo E niente, direi di andare a chiedere i prezzi Sì perché tanto dai qua ci sono i X, comunque belline Poi questo basta Allora, posso disturbarti un pochino? Loro due, al singolo, eh, uno o due Allora, questa qua la vendo sui 10-15 euro Ok Mentre Lugia 20-25 euro Ok Adesso intanto mettiamo la parte Poi pian piano il Dark Geridos Lui lo vendo 8 euro 8, ok Si potrebbe anche fare il Dark Geridos E Mew? Il Mew lo vendo a 15 Mew è la mia La CHR più bella È la preferita di tutti, quella di Zenith Dragonite e Ralz Allora, Ralz lo vendo a 5 Ok Dragonite a 5 Ralz posso farti anche 3 euro Guarda, facciamo così Se te le prendo tutte e due Me le fai a 7? Sì Allora, queste due le prendo già Io non ho visto la... Controlliamo però Primo un attimo E Ralz adesso mi manca solo il Kirlia Per finire il quadretto, cavolo Ce l'hai? Ti prego, dimmi di sì Mi sa di no Ralz e... Lui invece è più rovinato Sì, sì, si vede Si vede, però lo prendo soltanto perché mi piace È come se questo lo pagassi 2 euro e il Ralz 5 Quindi va benissimo E poi... Cosa c'era? Vediamo un pochino Ovviamente nei commenti se mi è sfuggito qualcosa Raga, ricordatemi Perché io non sono onnisciente purtroppo Quindi qualcosina mi può sfuggire, no? E poi cosa c'era? Vediamo Ah, Garde War E-X Delta Specie Eh, Garde War invece se lo posso fare a 5 5, ok Intanto lo tiro perché sono quasi convinto su questo Sì, siamo combinato Controlliamo, eh È solo nei bordi un po' mangiato lì Alla fine non è messo neanche malissimo Qualche graffio sull'olografia, ma va bene Per le tacche A va benissimo C'è il million? C'è il million quello lo do a 7 Perché per lo più vengo Come 7? Alla comune Perché tengo tutte le tacche Ah, ok No, io lo volevo prendere, però Va bene, niente c'è il million, mi sa Ok, poi cos'è che c'era anche di interessante No, questo no Questo no E qua, basta Penso di aver chiesto un po' tutto Allora, io ti faccio un'offerta per quelle 3 10 tutte e 3 Va bene, ci sto, dai Ah, a posto Andata per 10 tutte e 3 Chiudiamo, paghiamo Perché noi le paghiamo sempre le carte Hai per caso la 10 di resto? Certo Grande Ti ringrazio, gentilissima E ci vediamo prossimamente allora Grazie mille Ciao Ciao E raga, primo affare fatto Che bomba Adesso andiamo al prossimo banchetto Seconda bancarella raga E già da qui vedete quanto è fornita Quanto è grossa Tra console Carte poche Che dice un po' di console Le guardiamo? Sì? Dai ci sta Quindi lascia like e iscriviti per le console Andiamo a vedere un po' anche un po' di giochi Così for fun Ci può stare Per così di pokemon c'è comunque anche di giochi Qui abbiamo playstation 1 Queste non li guardiamo Perché sono veramente tanti Però raga Guarda quanti ne ha Cioè se vi interessano roba playstation 1 e playstation 2 Sapete dove comprarle Questo è Lorenzo ragazzi L'avete già visto in un video E nel caso vi lasciamo il link Tanto ce l'abbiamo vero? Sì perfetto Nel caso vi lasciamo il link in descrizione Quindi qui abbiamo Tutti i giochi play 1, play 2 Xbox 360 Play 3, play 4 Wii Li Questo non so cosa sia Cosa? Mega Drive Mega Drive Perfetto Non ero ancora nato probabilmente PSP Mortal Kombat Trilogy Bellino bellino Poi abbiamo vari giochi qui Tra cui non c'è Sì no Pokemon c'è lì Mystery Danger Mamma mia Quanto ci ho giocato a Mystery Dungeon Varie console Di cui dubbia provenienza Io purtroppo Sono troppo giovane per queste cose E poi qui Già iniziamo Sul nostro Figurine E quant'altro Varie figurine Queste me le ricordo Ero piccolo quando sono uscito E poi Andiamo sul nostro mondo Allora Due minutini perché lo sapete Me le concedi vero? Me le concedi? No Dai due minutini Due minutini al volo Così Giusto per For fun Questo non l'avevo visto Marsh Karon Queste sono Però nuove Praticamente Vero Sì Mondo Toon Vabbò Bellissimo Golan di Lava Ancora giocatissimo Tra parentesi E basta Quindi Visto Sono stato velocissimo Sulle Yugi Adesso andiamo su Pokémon Andiamo anche su questo Perché qualcosina Ci potrebbe interessare Qui Magari Quanto è bello È super cute Ecco Se vi piacciono le carte cute Questo è super cute Quindi Da prendere Non per noi Per voi Raga Come avete già visto Questo mercatino dell'usato È pieno Colmo di carte E roba La collezione Pokémon Giochi Raga Qua c'è di tutto È enorme Siamo a San Giovanni In Marignano Ormai penso che l'avete capito E come al solito Faremo il souvenir Toroig Però Ha 300 like E 150 commenti Vediamo se ci arriviamo Raga Il souvenir Toroig Dopo ve lo facciamo vedere Andiamo avanti E controlliamo Qui abbiamo Vabbò Queste sono Penso tutte Tra reverse e holo Giusto? Reverse e holo Con la stellina Con le rare Praticamente Ok Ma qualcosa di Questa è strana È tipo stampede C'è normale Che è reverse Ah ecco Perché l'hanno fatto La reverse Bella Non l'avevo mai vista Con la pokeball Così ti dico la verità Bella Bella un bel po' Allora Primo album Andato Secondo album Qui qualcosa di nuovissimo Appena uscito Letteralmente Corona strale Poi cosa c'è Vabbè Tutte i ex Queste Belline Bella Non si può dire niente È bellissima Questo Gardewar Reverse Stra stra bello Raga E altro Gardewar Penso che l'avete capito Che è un altro pokemon Che mi piace un casino Commenta il tuo pokemon preferito Così non lo chiediamo da una vita Suikon Poi abbiamo Questi 151 Yes Anche qui qualcosina Di 151 Queste vanno a ruba Raga Veramente Letteralmente E poi abbiamo qualcosina qui Ah qui abbiamo anche qualcosa di un po' più raro Ah vedi Le AR di 151 Belle Molto belle Solo che io ho finito il master set Quindi Abbiamo l'ultimo album Lì ho visto qualcosa che mi interessa parecchio Dopo ci andremo a vedere Flamigo Verde War Queste sono tutte shiny dicevi Sì Infatti Tutto a destino di Paldea no? Dovrebbe essere? Maggior parte Vero? Sì Tranne le prime lì davanti che qualcuna Ecco Infatti Poi c'è pokemon goccia Arizard e quant'altro Belle Però adesso ci andiamo a vedere quelle ultra rare Confermi? Sono quelle ultra rare Queste Allora Sì forse un po' più o altre Vabbè ma ci sta Alla fine è un mercatino raga Quindi è normale così Belline Ma qui non c'è niente che mi Mi intriga tantissimo Tranne quel bronzi che è un canno No è comiglia Comiglia Sì Bellissimo bellissimo Poi qui abbiamo un dark plus toys Spettacolare Sempre qui Scarlato e violetto 151 come avevi ben visto Invece a me quel latio si interessa Lo stavo anche cercando Quindi se posso vederlo Mi fa un favore Bello un bel po' raga Peccato quella grinzettina lì Ma anche questo raga Quanti anni c'ha quindi 2004 20 anni spaccato Fa anni Diventa più che maggiorenni Bellissima raga Spettacolare Questa proviamo a trattarla assolutamente Questa proviamo a trattarla assolutamente E poi qui c'è il souvenir drog Che abbiamo selezionato Che è una bustina di corona astrale Che è super nuova Poi con Rotom così Quanto stanno queste? 1 euro l'uno Te ne prendo due subito Una per la mia collezione Una per il souvenir drog 300 like 150 commenti Mi raccomando Queste le mettiamo da parte E poi Ho visto questa È Yugi Io raga lo sapete Quanto la piazza è quella? Questa posso far tra Le 35 35 Allora Io avrei una proposta Così For fun Vai 60 a tutti Va bene Ci sta? Ti dico che può andare Va bene Ci sta? Ragazzi è stato facilissimo Contrattare così Super semplice A posto Paghiamo l'ora E ti ringrazio tantissimo Grazie a te E vediamo se c'è un'altra bancarella Vai A posto Ti ringrazio Allora Pugger Per il prossimo giro Perfetto Grazie mille Raga Questi affaroni 60 euro Tanta tanta roba E poi non ditelo Che ce la prendiamo ai bambini Sono adulti E dal mercatino di San Giovanni In Marignano Raga È tutto Vi ricordo 300 like 150 commenti Souvenir tolo egg Ci vediamo ai prossimi affari Ciao Poggi Poggi Ci vediamo ai prossimi Grazie.